Buonasera, siamo presso la libreria Guida, siamo per presentare un nuovo lavoro dal titolo Attime di Eternità in SMS. È un lavoro di Maria Consiglia D'Amburrino, è il suo primo lavoro e sicuramente non sarà l'ultimo, quindi ha aperto questa nuova strada di scrittrice e qui in questo libro Maria Consiglia D'Amburrino ha voluto celebrare l'amore. Finalmente non parliamo di altre tematiche, ma parliamo di una tematica che dovrebbe essere a cuore di tutti noi. L'amore che è il motore, dovrebbe essere il motore del cambiamento, il motore della vita, finalmente c'è un autore che lo celebra. Lo celebra in maniera autentica, riportando la freschezza attraverso anche quello che è la forma, oltre che dei contenuti, attraverso l'SMS. Sta qui a fianco a me Maria Consiglia D'Amburrino, a cui chiedo l'emozione, l'emozione del momento, finalmente questo sogno che si è realizzato. Sì, salve, buonasera a tutti, prima di tutto. Effettivamente è un sogno che si realizza, però sento di dire che nonostante è un sogno che si realizza, un progetto, un obiettivo, io nel guardare questo libro quasi è come se lo avessi salutato, cioè lo vedo come un punto di partenza. È stata un'esperienza per me di crescita, è stata un'esperienza lavorare a questo libro, un'esperienza anche la preparazione a una serata come questa che mi ha dato il tempo, mi ha quasi imposto l'occasione di fermarmi e ascoltarmi, e capire quali fossero le mie emozioni, i miei pensieri, che pur essendo miei non avevano mai dato loro voce. Io spero di riuscire con questo libro a scuotere un po' gli animi delle persone, credo nell'amore, l'amore per un compagno, per la famiglia, per i figli, e credo che sia il sentimento che riesce a muovere il mondo. Allora, l'amore, l'amore a 360 crati è l'amore che accompagna la vita, l'amore è vita, e invece l'anomia dell'amore significa la morte, la sopravvivenza. Infatti, proprio nella dedica, lei ha parlato, rivolgente a suo padre, a cui va la dedica, non lasciarmi andare all'apatia dell'anima. È un'espressione molto forte. Vuole spiegarci un po' questa apatia dell'anima? È un po' difficile riuscire a trovare le parole. A volte le parole sembrano quasi svilire quello che è il concetto che uno vuole andare ad esprimere. L'apatia nell'anima, intesa anche come mediocrità in termini emozionali, il fatto che molte volte ci lasciamo andare, ci lasciamo sopraffare da tutta una serie di preoccupazioni, è molto difficile. Per me, tra l'altro, il dottore ha toccato un tasto particolarmente delicato per me, nel senso che io sono così grazie a mia madre, ma grazie a mio padre, che è l'uomo che mi ha reso così e che mi ha sempre detto di continuare a credere nei sogni e anche nell'amore. Ecco, questa è un'espressione molto bella, perché in fin dei conti ci fa capire che l'amore, oltre a essere, è un amore verso un compagno, verso i genitori, quindi verso questa figura paterna che gli ha dato un insegnamento forte. Ora, fermiamoci un attimo sul titolo. Perché Attimi di Eternità? Attimi di Eternità nasce dall'idea, dalla constatazione che io ho fatto, nel vivere in questo contesto sociale a livello temporale, l'era digitale, che può sembrare fredda. E quindi ho pensato che magari un SMS può essere non solo veicolo di scambi di mere informazioni, ma può essere veicolo di scambi di emozioni, sentimenti, paure, timori, che diventano poi, nel momento in cui tu le cristallizzi virtualmente, nero su bianco, è come se li rendessi eterne. Il suo obiettivo con questo suo lavoro è quello di sensibilizzare, soprattutto di svegliare le coscienze, indirizzare soprattutto i giovani, i ragazzi. Ecco, allora, ha la possibilità in questo momento di dare un indirizzo ai giovani. Parla liberamente dell'amore. È un po' complicato il discorso, si potrebbero dire infinite cose. Io, e tra l'altro è evidente dal libro, che non ho accompagnato il lettore in una storia che nasce, si sviluppa e cresce, che abbia un esito. Perché io stessa non avrei saputo spiegare quando nasce un amore e perché nasce un amore. Ho capito, però, che nel momento in cui lo si incontra e lo si riconosce, non si può fare altro che abbandonarsi a lui, vivendolo, giorno dopo giorno. Mi piace ricordare, l'autora con dei suoi, possiamo dire, quasi nelle ultime pagine, scrive una cosa stupenda, proprio riferendosi all'amore e alla sua identicità, anche quando un amore può naufragare. Infatti scrive, anche quando tutto sempre raffinito, se amore, quello vero, sarà per sempre e continuerà, imperterrido, a vivere nel nostro cuore in un superattico, con vista sui nostri sentimenti più autentici. Vi ringraziamo e facciamo sicuramente gli auguri per un prossimo lavoro e sempre su questo filone dell'amore, perché dobbiamo riscuotere l'emozione. Ultima parola per l'autore. Io vi ringrazio, vi ringrazio della fiducia che mi state dando, dell'opportunità che mi è stata data. Grazie e buona lettura.